Sì Carmine, buongiorno, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui alla palafiere di Fontanelle a Pescara in compagnia del vice sindaco del comune di Pescara Gianni Santilli. Perché? Perché è partita oggi e si concluderà domani la terza fase di screening rivolta ai bambini delle scuole elementari. Importante, signor vice sindaco, per contenere questa pandemia. Sicuramente oggi è un'altra giornata importantissima. Abbiamo lo screening per i ragazzi delle scuole elementari. Saranno tra la giornata di oggi, sia mattina, pomeriggio, domani mattina e pomeriggio, affronteranno questo piccolo esame per i bambini, 6.000 bambini. Abbiamo predisposto questa cosa perché vorremmo che dalla prossima settimana, cioè dal primo marzo, quando torneremo a scuola avremo una certezza della salute corretta da parte dei bambini. Quindi oggi per Pescara è un'altra giornata importante, in quanto al Palabecci, quindi al porto turistico, è iniziato la vaccinazione per gli insegnanti e il personale alta delle scuole. Non ultima però, devo dire l'ultima cosa, questa mattina abbiamo disposto la chiusura dei parchi perché purtroppo tanti non rispettano le regole. Quindi siamo costretti a chiudere forse gli unici luoghi dove si poteva passare in tranquillità qualche pomeriggio. Ma purtroppo non rispettando le regole siamo stati costretti a chiudere anche i parchi da questa mattina e saranno chiusi fino al 28 di febbraio. Servizio Sindaco, abbiamo visto come l'Abruzzo sia in zona arancione, però in virtù dell'ordinanza presidenziale Pescara e Provincia chiede Provincia in zona rossa, necessario proprio perché il diffondersi del virus, soprattutto di questa variante inglese, crea veramente apprezzione. Questa variante inglese ci sta creando dei grossi problemi, in quanto parlando con i medici, con i responsabili della AS di Pescara, ci hanno fatto notare che colpisce molto i bambini da 3 a 12 anni, quindi siamo stati costretti a chiudere le scuole, essendo poi Pescara e Chiedi stata definita in una zona rossa, quindi abbiamo deciso di chiudere le scuole e, ripeto, è una cosa importantissima che questa mattina anche i parchi. Bene, ringraziamo il Vice Sindaco di Pescara Gianni Santilli, ringrazio Diego Martelli per il collegamento tecnico, Carmine se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea, ricordando proprio che da oggi sono chiuse anche i parchi e le aree verdi della città per contenere la pandemia. È tutto, a voi studio. Grazie a tutti.